Ma tu continui a fare il segre gratuito? Comando, mi spieghi cosa vuoi dalla mia vita di merda? Cioè dimmi! Ora faccio eco, ora faccio eco, ora faccio eco Tu continui a fare segre Non gioco a questo gioco da quattro mesi Ehi, ma questo è un'altra cosa Come cazzo fai a fare eco? A vicini telefono Ma io non so giocare Siamo qua Riettoli Andiamo qua Ciao Ciao Gioca questo gioco da l'inizio del settembre All'inizio del settembre All'inizio del settembre All'inizio del settembre All'inizio del settembre Nooo Guarda a te la coglia Non so Non so Z piston Ci caffatti Brino Esa è una bomba F40 Fuori 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 Vieni entra Fuori 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 si 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 aqui qui qui muore guarda le cam zio le cam diego le cam le cam cazzo di spondi non è che ce ne sono rimaste molte scuola squadra d'attacco eliminata missione con io non la cerco io la prendo sono a secco la squadra d'attacco ha eliminato i sensori ma che stai? ha fatto il giro da dove? la squadra ultimo nemico rimasto la squadra nooo l'attaccante è stato eliminato l'attacco ha trovato una bomba guarda c'è il giro da dietro cerca di non morire un operatore alleato rimasto che schifo porco dio una cosa ho detto sono lì sono lì sono lì occhio occhio hai cucciato planta no? mi viene a farlo esattamente esatto momento dove devo... sai però non è che mi devi distruggere bruciandomi brufolo brufolo non è una bomba non è una scusa difensori eliminati missione d'attacco riuscita sono stacco sono... vai kapkan morto alla larga basta bella frate montagne 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 blitz non mi c'è problema ultimo attaccante è rimasto in vita ultimo attaccante è rimasto in vita I difensori hanno eliminato tutti i nemici Coglione Bello Comunque splatino dove minchia lo vedi frate Che ha pushato come uuuh sledge col pompa Blitz con una mimetica di 25k Come cazzo ho giocato Ma noi stavano cazzeggiando quei 3 yardavate Va a cazzeggiare Metti 9 secondi e poi 10 minuti Con lei cazzeggiare Non è mica Non è mica sprecare tempo Che cazzo metti 9 secondi Ma non è anche il tempo di barricare E' normale che chiedi un attacco Blitz Sledge Bomb E' una semplice personalizzata per cazzeggiare Sì Cazzeggiare un cazzo No, avete cazzeggiato manco un po' Che plantavate blitz Noi Noi 3 era una domanda che se Che bene C'era escursiva a parte Benvenuti Grazie Grazie Grazie